Il Grande Fratello torna in TV il prossimo 21 settembre, ma già da mesi se ne parla abbondantemente. Prima il suo autonomi per l'edizione VIP, poi i cambiamenti sul regolamento, la possibilità di partecipare al reality portando qualcuno con sé e ora è TV Sorrisi e Canzoni a fare il colpaccio e svelare qualche ulteriore dettaglio sul programma condotto da Alessia e Marcucci. Come apprendiamo dal settimanale, non ci sarà soltanto una casa a cinecittà, ma la produzione metterà a disposizione un appartamento al centro di Roma per le prime fasi del programma. Inoltre è definitivamente certo che a fare da spalla ed opinionista da Alessia e Marcucci non ci sarà la sua amica Vladimir Luxuria, ma Claudio Amendola, romano come la conduttrice e soprattutto amatissimo dal pubblico. Già in passato Claudio è intervenuto più volte come ospite speciale nel corso di alcune edizioni e ora è stato promosso di ruolo. Resta da capire se il regista sarà una presenza defilata nel reality, se interverrà massicciamente o magari intratterrà rapporti con i personaggi famosi del GF. Quel che è certo è che la simpatia non gli manca e se i suoi fan non gradiranno questa scelta saprà come fargli cambiare idea.